L'entusiasmo è una brutta bestia. Questo è l'argomento del video che stai guardando. Una premessa che faccio sempre. Non sono un tuttologo e parlo solo di cose che conosco bene e soprattutto che ho sperimentato sulla mia pelle. Se vuoi avviare e gestire una piccola attività, sviluppare un'idea o cambiare vita, ovviamente l'entusiasmo è indispensabile. Però devi imparare a maneggiarlo con estrema cautela perché è una brutta bestia e ti può creare grossi problemi. Molti anni fa, quando ho lasciato le cosiddette certezze del lavoro sicuro in aeroporto e ho deciso di cambiare vita comprando una barca e avviando una piccola attività nel settore del charter nautico, portavo i turisti, mi sono fatto condizionare molto dall'entusiasmo. È stata un'esperienza molto particolare, interessante, ma la cosa particolare è che ho deciso di intraprenderla spinto dagli effetti di una serie di meccanismi ampiamente sfruttati dal marketing. In quel periodo non me ne sono assolutamente reso conto, anche perché molte cose nemmeno le conoscevo. Se le avessi conosciute probabilmente avrei fatto almeno qualche scelta diversa. Anche questa è una delle esperienze che descrivo nella mia guida non fare questi errori. Se vuoi leggerla trovi il link qui sotto. Comunque torniamo all'entusiasmo. È in dubbio che fornisca un'energia fortissima che può spingere a prendere decisioni che altrimenti non si prenderebbero. Però è anche in dubbio che se l'entusiasmo prende il sopravvento, quasi sicuramente, si rischiano errori che possono avere anche conseguenze pesanti. La cosa peggiore è che quando sei in questa bolla creata dall'entusiasmo non ti accorgi di fare errori. Oppure li vedi ma ti illudi di non vederli. Così continui a sbagliare, magari con la speranza che prima o poi la situazione cambierà, oppure accadrà qualcosa che ti tirerà fuori dai guai. Questo però, in base alla mia esperienza, non accade mai e non arriva mai nessuno a tirarti fuori dai guai causati soprattutto dall'entusiasmo. Quindi impara subito a trattarlo con le dovute cautele. L'entusiasmo, si sa, è uno stato che ci spinge a dedicarci con totale dedizione a una particolare attività. E quando ci troviamo in questo stato, il nostro corpo produce quelli che vengono definiti gli ormoni della felicità, cioè la serotonina, la dopamina, l'ossitocina. E questi agiscono come una droga. Questa droga ci impedisce di vedere quasi completamente la realtà. Quindi corriamo grossi rischi se ci facciamo condizionare solo dall'entusiasmo nelle decisioni importanti. È un po' come quando si bevono un paio di bicchieri di vino, no? In quel caso si innescano quei meccanismi particolari che ci fanno sentire meglio e abbassano anche i freni inibitori. Se però andiamo oltre, gli effetti dell'alcol diventano negativi, no? E in una situazione del genere sappiamo benissimo, ad esempio, che non è il caso di mettersi alla guida di un'auto. Ecco, con l'entusiasmo succede la stessa cosa e certi meccanismi fisiologici sono simili a quelli dell'ubriacatura da alcol. Quindi sarebbe il caso di non prendere decisioni importanti, magari per cambiare vita o lavoro, quando siamo sotto gli effetti dell'entusiasmo, quando siamo pesantemente condizionati dall'entusiasmo. Sarebbe meglio cercare di farsi passare questa sbornia prima di prendere certe decisioni. Magari a te sembrerà una banalità quello che sto dicendo, ma io ti assicuro che ho impiegato circa 25 anni per capirlo, eh? E alcuni errori che ho fatto sull'onda dell'entusiasmo risalgono a non molto tempo fa, quando avevo l'azienda agricola in montagna. Guarda i video della playlist 10 anni nel settimo cielo sul mio canale YouTube e vedrai che storia. Molte fasi di quell'esperienza sono state pesantemente condizionate dall'entusiasmo. E le cose non è che siano andate proprio bene bene. Quindi, come al solito, non pretendo di dare consigli a nessuno. Però oggi, se qualcuno mi chiede secondo me che peso dovrebbe avere l'entusiasmo in qualsiasi processo decisionale importante, non ho dubbi e rispondo senza esitazione. Secondo me non dovrebbe avere più del 50% dell'importanza. Il resto deve essere razionalità derivante esclusivamente da approfondite analisi oggettive e non da condizionamenti. Tu cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti qui sotto, perché sono curioso di sapere se questa mia opinione è condivisa. E non pensare che questo mio orientamento sia dovuto all'età. Non sono uno di quelli che ritiene che l'età ci renda più saggi. Secondo me ci sono imbecilli a 20 anni come a 90. Quindi, per me l'età non c'entra niente. Io sono pronto a rimettere in gioco ancora una volta tutta la mia vita. Però adesso, tenendo conto delle esperienze che ho fatto, mi muovo con molta più cautela quando ho a che fare con l'entusiasmo. Anche perché altrimenti sarei un imbecille e non avrei imparato niente.